buon pomeriggio ci troviamo qua al nuovo di via olimpia di castelfrentano per la gara del campionato provinciale categoria allievi under 17 virtus castelfrentano casal bordino la virtus ecco la divisa giallorossa mentre il casal bordino ecco la divisa rosso nera rosso i pantaloncini e nero la maglietta ecco l'entrata in campo il direttore di gara il signor freno della sezione aia di chieti adesso c'è il saluto al pubblico c'è la scelta del campo prima buon pomeriggio due tempi da 45 minuti qua al nuovo di via olimpia ecco la nostra panchina buon divertimento